Buonasera da San Siro, ultima giornata di campionato, la nostra Roma in trasferta con il Milne. Il Milan la combina, attenzione a Salah. Salah che può partire nel contropena, ancora Salah, cerca la conclusione con il sinistro, vicinissimo al suo quattordicesimo, golli nel campionato. Attenzione ancora a Stottone che scava, il valore dà una gran palla per Salah, 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 Salah! Roma in bandaggio, contropiede vicini di Allero. Poi arriva Onda, la conclusione, Scesni, palla che rimane lì, puoi allontanarla immediatamente. Pianic, grandissima palla per il Sarawi! È un gol fantastico! L'assist di Pianic, il gol di il Sarawi che non esulta, ma 2-0 l'uomo. Tutto perfetto! Abbiamo ancora i lacrosi, colpo di testa! Qui invece un grandissimo Scesni! Il capitano l'ha vinta, ancora Totti, il colpo di tacco, l'assist per Salah, la conclusione Donnarumma e arriva il gol del 3-0! Il gol di Everson Palmieri, Alessio! Perseguiamo ancora l'iniziativa da parte del Milan, è qui Scesni e poi c'è il gol! C'è il gol del Milan! E' proprio Buonaventura! E c'è la risposta di Scesni! E' proprio buonaventura da parte del Milan, è la risposta di Scesni e 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 la risposta di Scesni.